Atto secondo, scena prima. Ligurio, Messernicia e Siro. Affrontiamo quest'oggi la lettura e il commento del secondo atto della Mandragola di Niccolò Macchiadelli. Dalla teoria si comincia a passare alla pratica e l'inganno alle spalle di Messernicia comincia ad essere messo concretamente in pratica. Vediamo come. Il primo a parlare è Ligurio. Come io vi ho detto, io credo che Dio ci abbia mandato costui, cioè Callimaco, perché voi adempiate il desiderio vostro, cioè quello di avere un figlio maschio. Egli ha fatto a Parigi esperienze grandissime, e non vi maravigliate se a Firenze e non ha fatto professione dell'arte, non ha ancora esercitato il suo lavoro di medico. Che ne è suuto, cioè stato cagione, prima per essere ricco, secondo perché egli è ad ogni ora per tornarsi a Parigi. Uno perché è ricco, dunque non ha bisogno di lavorare anche qui, due perché tanto sta per rientrare in Francia. L'inganno, dicevo, viene messo in atto. Bisogna far credere al povero Messernicia che Callimaco sia un medico di fama internazionale, che sicuramente saprà risolvere il problema della sterilità di sua moglie, Madonna Lucrezia. Risponde Nicia. Ormai, frate sì, cotesto bene importa, perché io non vorrei che mi mettessi in qualche lecceto, cioè in qualche pasticcio, e poi mi lasciassi in sulle secche. Non dubitate di cotesto, abbiate solo paura che non voglia pigliare questa cura, ma se la piglia, e non è per lasciarvi infino che non ne veda il fine. L'Igurio cerca di convincere Nicia a servirsi di questo medico di fama internazionale. Nicia risponde. Dico te sta parte, io mi vuoi fidare di te, ma della scienza io ti dirò ben io come io li parlo, se gli è uom di dottrina, perché a me non venderai gli vesciche, cioè soltanto delle chiacchiere. Messer Nicia, come abbiamo già visto nell'atto precedente, è una persona molto autoconsapevole, molto sicura di sé, pensa di essere molto intelligente in realtà, come abbiamo già intuito di fatto, è uno sciocco. Qui sta semplicemente dicendo, sì, io mi fido di te, Ligurio, ma voglio verificare in prima persona se costui Caldimaco sia veramente uno scienziato, di livello. Parlerò dunque con lui, Ligurio. E perché io vi conosco, di meno io a lui, vi porterò io da lui, a ciò vi parliate, affinché possiate parlare con un colmento, con lui. E se parlato li avete, e non vi pare, per presenza, per dottrina, per lingua, uno uomo da mettergli il capo in grembo, cioè da fidarsi di lui, dite che io non sia adesso. Orsia, al nome dell'Agno il Santo, andiamo. Ma dove sta egli? Sta in su questa piazza, in quell'uscio che voi vedete, al dirimpetto a noi, cioè proprio di fronte a noi. Sia con buona ora, picchia, cioè bussa alla porta. Ecco fatto. Dall'interno risponde Siro, il servo. Chi è? Evvi Callimaco? Sì? Eh? Che non tu di maestro Callimaco, obiettanicia, è un medico, bisogna chiamarlo col titolo professionale, maestro. Ehi non si cura di similbaie, cioè lui non si dà conto di certe sciocchette, non dire così, fai il tuo debito, e se l'ha per male, scingasi, cioè problemi suoi. Inizia qui la scena seconda. Il primo a parlare è Callimaco. Chi è quello che mi vuole? E inizia risponde addirittura in latino, per darsi un tono. Buona dies, domine magister. Buongiorno signor maestro, signor dottore. E Callimaco risponde stando al gioco in latino. Et vobis bona, domine doctor. E sia una buona giornata anche per voi, o signor dottore. E Ligurio tutto soddisfatto. Che vi pare? Bene alle guagnede. Inizia sembra soddisfatto da questa risposta che ho ottenuto in latino. Ligurio. Se voi volete che io stia qui con voi, voi parlerete in modo che io vi intenda, altrimenti noi faremo due fuochi. Faremo cioè due discorsi separati. Callimaco. Che buone faccende, cioè per quale motivo vi siete rivolto a me? Inizia gli risponde. Che so io, vo cercando due cose che un altro per avventura fuggirebbe. Questo è di dare briga a me e ad altri. Io non ho figliuoli e ne vorrei. E per avere questa briga vengo a dare in paccio a voi. Inizia è molto chiaro. Il mio problema è che desidero avere dei figli, ma non posso averne. Callimaco gli risponde. A me non fia mai discaro far piacere a voi e a tutti gli uomini virtuosi ed adene come voi. E non mi sono a Parigi affaticato tanti anni per imparare, peraltro se non per poter servire ai pari vostri. Gran mercè. E quando voi avessi bisogno dell'arte mia, risponde Inizia, io vi servirei volentieri. Ma torniamo ad rem nostram, al nostro problema. Avete voi pensato che bagno, cioè qual è, bagno termale, fossi buono a disporre la donna mia a impregnare, cioè a rimanere incinta, che io so che qui di Gurio vi ha detto quello che vi si abbia detto, e Callimaco risponde. Egli è la verità, ma a voler adempire il desiderio vostro è necessario sapere la cagione, cioè il vero motivo, della sterilità della donna vostra, perché le possono essere più cagioni, e qui di nuovo in latino. Nam cause sterilitatis sunt, out in semine, out in matrice, out in instrumentis seminaris, out in virga, out in cause extrinsica, e così via. ovviamente Callimaco deve persuadere Messarnicia di essere un eccellente medico, e dunque parla, come si faceva all'epoca, nel caso dei medici specializzati in latino. In sostanza, appena detto che le cause della sterilità di una donna possono essere molteplici, e dunque, prima di passare direttamente a una terapia, come potrebbero essere ad esempio i bagni termali, bisognerebbe fare un'indagine preliminare, una visita a questa donna. Nietzsche, tutto soddisfatto della spiegazione, risponde così, Costui è il più degno uomo che si possa trovare. C'è cascato in pieno, è convinto che sia un grande medico. Callimaco. Potrebbe, oltre di questo, causarsi questa sterilità da voi per impotenzia, che quando questo fussi, non ci sarebbe remedio alcuno? Qui Callimaco si diverte anche un po' alle spalle del povero messa Nietzsche, dandogli dell'impotente. Nietzsche ovviamente si risente, e risponde subito, Impotente io? Oh, voi mi farete ridere! Io non credo che sia il più ferrigno e il più rubizzo uomo in Firenze di me. Seco testo non è estate di buona voglia, che noi vi troveremo qualche remedio. e Nietzsche chiede. Sarebbeci, cioè ci sarebbe, egli altro rimedio che i bagni? Perché io non vorrei quel disagio e la donna uscirebbe di Firenze malvolentieri. Lo sappiamo già dal primo atto, Nietzsche non ha tanta voglia di trasferirsi ai bagni fuori Firenze, con la moglie, è una cosa scomoda, richiederebbe tanto tempo, soldi. Dice, non c'è un altro rimedio perché lei possa rimanere incinta più facilmente. E Ligurio aggiunge, Sì, sarà. I voi risponderi io. Callimaco è tanto rispettivo che è troppo. Non mi avete voi detto di sapere ordinare certe pozioni che indubitatamente fanno ingravidare? Ligurio addirittura anticipa l'intervento di Callimaco, dice, ma sì, ne abbiamo parlato prima, ci sarebbe un altro rimedio, quello di dare una sorta di pozione, come diremmo, di medicinale, a questa donna. Callimaco spiega, Sì, ho, ma io vorrà tenuto, cioè sono prudente, con gli uomini che io non conosco, perché io non vorrei mi tenessi in un cerretano. Come dire, sì, c'è anche quest'altro rimedio, questa medicina, ma non l'ho proposta subito, ho proposto prima un rimedio più tradizionale, per non essere scambiato per un ciarlatano. Nietzsche però risponde, non dubitate di me, perché voi mi avete fatto maravigliare di qualità che non è cosa che io non credessi o facessi per le vostre nane. Nietzsche ormai sfida ciecamente del medico. Io credo che i bisogni che voi veggiate il segno. Senza dubbio, risponde Callimaco, e non si può far di meno. Poi Vigurio, a parte, rivolto solo a Callimaco, chiama Siro, che va a dia, cioè che vada, col dottore a casa, per esso, e torni qui, e noi l'aspetteremo in casa. Callimaco. Siro, va con lui, e se vi pare, messere, tornate qui subito, e penseremo a qualche cosa di buono. Nietzsche, come se mi pare, io tornerò qui in uno stante, cioè in un attimo, che ho più fede in voi che gli ungheri nello spano. Qui è una battuta che non è stata ancora tutt'oggi molto ben decifrata, sta di fatto che il significato è semplice, non preoccupatevi, caro dottore, ho capito che voi siete uno in gamba, ci rivedremo fra poco, mi fido ciecamente di voi. Qualunque terapia voi proponiate per mia moglie potrà andar bene. Eccoci alla scena terza, Messernicia, che parla con Siro. Questo tuo padrone è un gran valente uomo, più che voi non dite. È il re di Francia, ne de far conto, assai. E per questa cagione e debbe star volentieri in Francia, così credo. E fa molto bene. In questa terra, cioè in Italia, Firenze, non ci è se non cacastecchi, non ci si apprezza virtù alcuna. Se gli stessi qua, non ci sarebbe uomo che lo guardassi in viso. Io ne so ragionare, che ho cacato le curatelle per imparare duac, c'è un po' di latino, e se io ne avessi a vivere, io starei fresco, ti so dire. In questa battuta di Nietzsche, nella quale si vede peraltro la sua abitudine ad un linguaggio piuttosto scurrile, piuttosto volgare, si nota anche una tematica che è spesso presente in Machiavelli, ovviamente in altre opere, cioè la critica nei confronti dell'attuale condizione dell'Italia. Non dimentichiamoci che la commedia, ovviamente nella finzione, è ambientata in Italia, a Firenze, nei primi anni del Cinquecento. E qui si parla male dell'Italia dell'epoca. si dice, nella nostra terra non c'è più nessuna virtù. E Nietzsche sta dicendo se un uomo di questo valore, il medico Callimaco, lavorasse sempre in Italia, nessuno lo prenderebbe in considerazione. Sierra risponde, guadagnate voi l'anno Cento Ducati, cioè tantissimi soldi, effettivamente Messarnice è molto ricco. E Nietzsche risponde sempre nel suo linguaggio un po' particolare. non Cento Lire, non Cento Grossi, ova, e questo è che chi non ha lo Stato in questa terra, cioè il patrimonio in questa terra, dei nostri pari, non trova cane che gli abbai, e non siamo buoni ad altro che andare a mortori, cioè a funerali, o alle ragunate di un mogliazzo, cioè a feste di matrimonio, o a starci tutto d'in sulla panca del proconsolo a donzellarci. Ma io ne vi disgrazio, io non ho bisogno di persona, così stessi chi sta peggio di me. Non vorrei però che le fussino mia parole, che io avrei di fatto qualche balzello, cioè qualche tasso, qualche problema, o qualche porro di dietro, qualche grave fastidio, che mi farei sudare. Non dubitate, quindi questo sfogo, diciamo così, di Nietzsche contro i suoi concittadini deve rimanere oscuro. E Nietzsche conclude, noi siamo a casa, aspettami qui, io tornerò ora. E Siro gli risponde, andate, andate pure, vi aspetterò. La scena quarta è la più breve di tutto l'atto, è rappresentata soltanto da un'unica battuta, cioè da un piccolo monologo, di Siro, che da solo dice così. Se gli altri dottori fossino fatti come costui, noi faremmo a sassi peiforni, ce ne faremmo delle sciocchezze, delle cose da pazzi. Che sì, che questo tristo diligurio e questo impazzato di questo mio padrone lo conducono in qualche loco che gli faranno vergogna. E veramente io lo desidererei quando io credessi che non si ripassapessi, perché risapendosi io porto pericolo della vita, è il padrone della vita e della roba. Egli è già diventato medico, non so io che disegno se sia loro e dove si tenda questo loro inganno. Ma ecco il dottore che ha un orinale, cioè un orinatoio in mano, che non riderebbe di questo uccellaccio. Siro è persino un po' preoccupato della fantasia forse eccessiva del suo padrone Callimaco. Dice, non è che stavolta ne sta combinando veramente una peggiore del solito. Scena quinta, Messer Nicia e Siro. Nicia. Nicia si sta rivolgendo a Lucrezia, cioè alla moglie, che ovviamente non si vede ancora è fuori scena. Io ho fatto d'ogni cosa a tuo modo, di questo voglio che tu faccia mio. Se io credevo non aver figliuoli, io avrei preso piuttosto per moglie una contadina che te. E poi torna a parlare con Siro. Toco sti, Siro, vienmi dietro. Quanta fatica ho io durata a fare che questa mia monna sciocca, questa mia sciocca moglie, mi dia questo segno. E non è dire che la non abbi caro di far figliuoli, che la ne ha più pensiero di me, ma come io levo far fare nulla egli è una storia. Abbiate pazienza, le donne si sogliono con le buone parole condurre dove altri vuole. Che buone parole! Che mi ha fracido, cioè letteralmente mi ha stancato, mi ha stufato, mi ha annoiato. Varatto, dia al maestra ed aligurio che io sono qui. Eccoli che vengono fuori. La scena sesta che leggeremo ora è l'ultima e quella conclusiva del secondo atto ed è particolarmente importante. I personaggi in scena sono Ligurio, Callimaco e Messarnicia e a questo punto si capirà con grande precisione in che cosa consista l'inganno, il trucco, il tranello che sta mettendo in campo Callimaco. In questa scena sesta del secondo atto capiremo anche il perché del titolo della commedia perché è la commedia sentito di Mandracola. Ascoltate, il primo a parlare è Ligurio che a parte si sta rivolgendo solo a Callimaco. E il dottore fia facile a persuadere. Cioè, il dottore, no, Messarnicia non farà più nessuna difficoltà, lo convinceremo facilmente. E la difficoltà fia la donna e da questo non ci mancherà modi. O lei che invece sta ancora facendo qualche storia è la moglie. Avete voi il segno e la siro sotto Callimaco. Dallo qua oh, questo segno mostra debilità, cioè malattia, debolezza di rene, un problema ai reni. Micia e mi partorbiliccio eppur l'ha fatto orora. È una sorta di esame delle orini improvvisato che è stato fatto. E Callimaco risponde in latino. Non ve ne maravigliate, nam mulieri surine sunt semper maioris grossizie et albedinis et minoris pulcritudinis quam virorum. Uius autem intercetera causa est amplitudo canalium mix zioeorum quex matrice ex eun cum urina. Tutta una spiegazione sulle orine degli uomini e delle donne. Nicia a parte. potta di sampuccio un'esclamazione piuttosto popolare e volgare. Costui mi raffinisce tra le mani guarda come ragiona bene di queste cose. Callimaco io ho paura che costei non sia la notte mal coperta e per questo falorina cruda. Qui c'è un gioco di parole. Letteralmente Callimaco ha detto a Nicia io temo che costei cioè che tua moglie di notte non si copra bene o meglio non sia ben coperta. Nel termine coprire c'è anche un'allusione sessuale coprire nel senso di montare come si direbbe degli animali cioè che non abbia rapporti sessuali a sufficienza e per questo le sue orine sono torbide sono sbagliate. Nicia risponde Ella ti empura addosso un buon coltrone ma la sta quattro ore ginocchioni a infilzar paternostri innanzi che la se ne venghi a letto ed è una bestia a patir freddo ovviamente Nicia non coglie il doppio senso sessuale e dice no mi sembra strano lei ha delle buone coperte nel letto il problema è che tutte le sere prima di venire a coricarsi sta delle ore inginocchiate a pregare quindi al freddo sarà per quello Callimaco infine dottore o voi avete fede in me o no o io vi ho a insegnare un rimedio certo o no io per me e il rimedio vi darò se voi avete fede in me voi lo piglierete e se oggi a un anno cioè nel giro di 12 mesi la vostra donna non ha un suo figliuolo in braccio io voglio avervi a donare 2000 ducati cioè caro signor Nicia è ora che ti fidi di me io il rimedio ce l'ho belle pronto anzi ti garantisco che se nel giro di un anno tua moglie non ti darà un figlio maschio ti rimborserò con gli interessi e Nicia risponde dite pure che io son per farvi onore di tutto e per credervi più che al mio confessoro cioè ormai ho piena fiducia in te caro medico più che del mio confessore Callimaco voi avete a intendere questo che non è cosa più certa ingravidare una donna che dargli bere una pozione fatta di mandragola eccolo qui il titolo della commedia questa è una cosa sperimentata da me due paia di volte e trovata sempre vera e se non era questo la reina di Francia sarebbe sterile e infinite altre principesse di quello stato Callimaco sta dicendo devi far assumere a tua moglie a madonna lucrezia una pozione a base di mandragola la mandragola è una pianta le cui radici si riteneva che appunto potessero curare la sterilità femminile e aggiunge io Callimaco grande medico in Francia ho sottoposto a questa terapia addirittura la regina di Francia delle gran principesse tutte sono rimaste incinte quindi devi fidarti di questo rimedio Nicia tutto stupefatto è egli possibile cioè è possibile che basti così poco egli è come io vi dico e la fortuna vi è intanto voluto bene che io ho condotto qui meco tutte quelle cose che in quella pozione si mettono e potete averla a vostra posta quando avrebbe la pigliare cioè a che ora dovrebbe assumere questa pozione chiede il marito chiede Nicia Callimaco questa sera dopo cena perché la luna è ben disposta e del tempo non può essere più a proposito cotesta non fia molto gran cosa ordinatele in ogni modo io gliene farò pigliare Callimaco però aggiunge e bisogna ora pensare a questo attenzione bene a questo passaggio che quello uomo che ha prima a fare seco presa che la cotesta pozione muore in fra otto giorni e non lo camperebbe il mondo c'è ancora un problema però Callimaco spiega a Messernicia che non basta farle prendere la pozione c'è per così dire un effetto collaterale l'effetto collaterale di questa mandragola qual è? e che il primo uomo che farà l'amore con questa donna che ha preso la pozione verrà ucciso assumerà lui la parte velenosa di questa pozione durante il rapporto dunque se il povero Messernicia avesse un rapporto sessuale con sua moglie nei giorni successivi all'assunzione di questo farmaco a base di mandragola verrebbe ucciso il problema evidentemente è grande e Nietzsche risponde tutto spaventato caca sangue io non voglio cotesta su zacchera a me non la piccherai tu voi mi avete concio bene Nietzsche dice no a questo punto io non sono più disposto a collaborare cos'è che devo morire? state saldo e ci è rimedio quale? far dormire subito con lei un altro che tiri standosi seco una notte a sé tutta quell'infezione della mandragola di poi vi iacerete voi senza pericolo cioè traduco letteralmente nell'italiano di oggi il rimedio è questo far giacere subito con tua moglie un altro uomo che assorba passando con lei la notte tutto il veleno della mandragola e poi potrete coricarvi tranquillamente con lei di nuovo senza nessun pericolo e Nietzsche ovviamente è stupefatto da questa spiegazione dice io non vuoi far cotesto cioè io non voglio che mia moglie mi tradisca con un altro perché? perché io non voglio far la mia donna femmina cioè prostituta traditrice e me becco cioè me cornuto e Callimaco prova a convincerlo che dite voi dottore? oh io non vi ho per savio cioè saggio come io credetti sì che voi dubitate di fare quello che ha fatto il re di Francia e tanti signori quanti sono là come dire se persino il re di Francia ha accettato di sottoporsi a questo tipo di trattamento perché non dovresti farlo tu e Nietzsche risponde chi volete voi che io trovi che facci cotesta pazzia se io gliene dico e non vorrà se io non gliene dico io lo tradisco ed è caso da otto ne diremmo sarebbe un reato penale da finire in tribunale io non ci voglio capitare sotto male Callimaco se non vi da briga altro che cotesto lasciatene la cura a me come si farà? qui effettivamente c'è un altro problema al di là dell'aspetto morale che evidentemente non interessa minimamente a Messernicia c'è un aspetto pratico e mi verrebbe da dire penale cioè come faccio a trovare una persona disposta a morire giacendo una notte con mia moglie per colpa della mandragola sarebbe come per così dire commettere un omicidio volontario e i magistrati potrebbero accorgersene Callimaco ha il rimedio pronto anche per questo secondo problema ascoltate quale Callimaco dirò velo cioè ve lo dirò subito io vi darò la pozione questa sera dopo cena voi gliene darete avere e subito la metterete nel letto che fiano circa quattro ore di notte di poi cioè in seguito ci travestiremo voi Ligurio Siro ed io e andremcene cioè andremo cercando il mercato nuovo il mercato vecchio per questi canti e il primo garzonaccio che noi troveremo scioperato l'imbavaglieremo e a suon di mazzate lo condurremo in casa e in camera vostra al buio qui vi lo metteremo nel letto direndi quello che abbia a fare ne ci fia difficoltà veruna di poi la mattina ne manderete colui innanzi di farete lavare la vostra donna starete con lei a vostro piacere e senza pericolo il remedio dice Caldima qui è già bello che hai trovato durante la notte sequestreremo un garzoncello un garzonaccio dice lui un ragazzo nelle vie della città lo porteremo imbavagliato legato nel letto della donna che è molto bella lui a quel punto sicuramente una volta slegato avrà piacere di giacere con lei e poi al mattino lo porteremo via Nicia risponde io sono contento poiché tu dì che i re e i principi e i signori han tenuto questo modo ma soprattutto che non si sappia per amor degli otto cioè per paura degli otto magistrati del tribunale chi volete voi che il dica una fatica ci resta ed importanza e Nicia risponde farne contenta moglie ma cioè mia moglie a che io non credo che la si disponga mai Nicia giustamente ancora un'obiezione sì tutte belle parole ma conosco mia moglie non sarà mai disponibile a cedere a un compromesso di questo tipo infatti Cadimaco chiede quale? voi dite il vero ma io non vorrei innanzi essere marito se io non la disponessi a fare a mio modo io ho pensato al rimedio dice l'immancabile Ligurio come per via del confessoro c'è sfruttando il confessore chi disporrà il confessoro tu io i danari la cattività nostra la loro io dubito non che altro che per mio detto la non voglia ire a parlare al confessoro ed anche a cotesto e remedio dimmi farvela condurre alla madre la le presta fede cioè si fila di lei Ligurio ed io so che la madre è della opinione nostra orsù avanziamo tempo che si fa sera e poi a parte rivolto a Callimaco vatti Callimaco a spasso e fa che alle ventitré ore noi ti troviamo in casa con la pozione ad ordine noi ne andremo a casa la madre e il dottore dio a disporla perché mi anota poi ne andremo al frate e vi ragguagliereno di quello che noi erano fatto Ligurio è una sorta di deus ex machina di factotum è lui che organizza tutti gli inganni rimane ripeto quest'ultimo problema bisogna convincere madonna lucrezia a cedere a questa sorta di inganno a giacere di fatto con uno sconosciuto come si potrebbe fare in maniera semplice dice Ligurio potrebbe andarsi a confessare dal suo padre spirituale dal suo confessore di fiducia e se il confessore le dicesse che questa cosa è giusta da fare lei a quel punto la farebbe sicuramente dunque bisogna corrompere il frate confessore di madonna lucrezia per convincerla a commettere questa cattiva azione il frate sarà poi frate timoteo lo scopriremo nella prossima video lezione si va concludendo l'ultima scena del secondo atto callimaco rivolto a Ligurio dè non mi lasciar solo tu mi pari cotto dove vuoi tu che io vadi ora di là di qua per questa via per quell'altra egli essi grande Firenze e callimaco conclude dicendo io son morto come vediamo anche da quest'ultimo breve dialogo fra Ligurio e callimaco Ligurio è l'elemento forte sicuro di sé non ha paura di nulla callimaco cheppur è stato molto bravo a recitare la parte del finto medico è un po' più pauroso e timoroso e non vorrebbe essere lasciato solo prima di queste avventure che stanno per capitare dunque a questo punto l'inganno è praticamente pronto e come vedremo nella prossima video lezione nell'atto terzo si è quasi pronti per metterlo in pratica grazie a tutti per l'attenzione e ci rivediamo fra qualche giorno per la lettura e per il commento del terzo atto della mandragola di Niccolo Machiavelli grazie a tutti e come sempre arrivederci al prossimo video grazie a tutti